Città di Piazza Armerina, Segreteria Affari Generali, determinazione numero 18 del 2 luglio 2013, con all'oggetto nomina della Giunta Municipale. Il Sindaco, visto il verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale per il turno di ballottaggio delle elezioni comunali... Ieri pomeriggio si è svolta nella Sala delle Luci, alla presenza del Segretario Comunale, la cerimonia di giuramento dei nuovi assessori. Subito dopo si è proceduto all'assegnazione delle deleghe. L'incarico di Vice Sindaco è stato affidato a Giuseppe Mattia. Adesso la nuova giunta comunale è pronta e da questa mattina i nuovi assessori potranno prendere visione di tutta la documentazione relativa ai propri compiti istituzionali. Io adesso invito gli assessori indesignati a formulare il giuramento di rito. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Allora io adesso contestualmente la nomina del Vice Sindaco. Il Sindaco, vista la propria determinazione numero 16 del 2 luglio 2013, con la quale sono stati nominati i componenti dell'Aggiunta Municipale, determina di nominare Vice Sindaco del Comune di Piazza Armerina il signor Giuseppe Mattia, nato ad Enna, il 2 ottobre 67, residente in Piazza Armerina, in via Tommaso Grassi, 14, che lo sostituirà in caso di assenza o impedimento. Disporre la trasmissione del presente provvedimento al Consiglio Comunale, al competente assessorato regionale e all'ufficio elettorale. Il Consiglio Comunale per la sua prima seduta è stato convocato per il 12 luglio alle ore 18.